Si parte! Allora oggi siamo qua su... Eh la la, siamo di nuovo su Fall Guys Eh veloce, se no non ti qualifichi Porca spizzola Eh, allora praticamente siamo di nuovo qua Su Fall Guys E praticamente io Forse dovrei alzare il volume del microfono Perché praticamente no Adesso c'è un casino assurdo Che porca miseria, voi non potete nemmeno Immaginare, nemmeno lontanamente Però, però È bellissimo Fall Guys perché io sto cercando Di controllare qua giù se è però Porca miseria, ma porca miseria Ma non è possibile, eh fai su e fai giù E ce la, vai vai vai, sì 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 Allora ce la facciamo eh, ce la facciamo Ok stiamo attenti perché qua potremmo non farcela Ma in realtà possiamo anche farcela Se vogliamo, assolutamente Perfetto, perfetto, molto bene Ok via tutti, via tutti, sì 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 Perfetto, yeah Siamo stati qualificati, perfetto Allora, questo è come al solito Il mio integratore Sì, sì sì Sì, non fatemi domande Ok, però adesso La prossima Cosa sarà Mappa, no? Giustamente La prossima, prossima modalità Eh, sarà Eh, eh Cos'è che devo fare? Ah, sarà di nuovo un'altra gara Che dobbiamo, capito Andare dritti, no? In fondo Che brutto gesto che sto facendo Praticamente, no? Cioè dobbiamo praticamente Intruffolarci fra le porte A raggiungere Il limite della pazza Cioè, c'è proprio una roba incredibile Questa cosa Però tranquilli che questa Qua c'è un trucco Basta seguire la massa Praticamente dove la massa va È giusto qua Eh no, però qua No, 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 no Qua, qua Da questa parte è meglio Fidatevi, fidatevi Era meglio perché sennò tipo qua Anche, c'è un altro segreto Sono stato eliminato Perché sono un genio Passiamo alla prossima volta Eh, mappa Minigioco, vai Pronti Allora, eh Dobbiamo andare da questa parte Perché praticamente Qua Eh, beh, beh Giusto, giusto Allora, eh Adesso però ci vedremo in fondo Perché ormai già questa parte L'avete già vista Che se ne frega, no? Ci siamo qualificati Perfetto Adesso Passiamo alla prossima Ok Come nella scorsa mappa Praticamente anche in questa Dovremmo navigare Fra gli ostacoli E raggiungere Il traguardo Magico Che ci porterà Alla vittoria Eh So che vi piace Brutti zzzoni Zuzzuro E loccioli Eh Vabbè Scusate nel caso Vi siete offesi Scherzo ovviamente Cioè nel senso Non c'è niente da offendersi No, nel senso Vi chiamo così In modo affettuoso Eh Chiamo anche i miei amici Così porca miseria Però se non riesco a saltare Allora c'ho dei problemi Nel sedere Cioè dico al sedere No che non salta Cosa pensate Eh mamma mia Ma è piena di robe qua Porca miseria Porca spizzola Porca ciamizzo Ok Però ce la possiamo fare Vediamo Ok Focco Perfetto Da questa parte Eh mamma mia Che casino Che casino Ma non importa Tranquilli Perché qua adesso Ci colpiscono le palle in pieno Magnifico Eh Ok perfetto Da questa parte Il trucco In questa mappa Per chi non lo sa È andare Vedete Diciamo Qua in laterale A sinistra o a destra Perché praticamente Là in mezzo Se no è pieno di cose Che vi attaccano E quindi però ce l'abbiamo fatta Perfetto Ci siamo stati qualificati Prossimo round Ma cos'è sta roba Scusa Eh Ah ok Dobbiamo stare Sulla piattaforma Perché praticamente Ci saranno degli ostacoli Anche gli stessi giocatori Che cercheranno Di buttarci giù Ma noi Dobbiamo essere più furbi E stare attenti A non morire E anche qua In teoria dovrebbe essere Ora non so Perché nella scorsa volta L'unica volta Che l'ho provato Sono morto Ok quindi Ma io non so E mi sto spaventando Ah ecco qua Ecco qua Allora dobbiamo stare Tutti qua Qua capito Cioè tutti Eh Poi Eh la ma la la Qua ok Da questa parte Ah tutti a sinistra Forza forza Non morite Ok Tutti a destra A destra No sinistra questa Vabbè Il fatto che non so È un altro conto Ok perfetto Tutti qua Tutti qua Tranquilli Tranquilli Ce la facciamo Ce la facciamo Adesso magari Arrivano pure E la madinna Madunninna Eh E la 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 Porca miseria E che casino E la 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 Stai scherzando Aiuto Dobbiamo suonare Un attimo Questa cosa Che sembra quasi Una maracas Gli integratori vitaminici Eh però qua Tutto un casino Aiuto Aiuto Porca miseria Qua dovevamo saltare Non stavo saltando bene Non importa Dobbiamo farcela Tutti quanti insieme Saltate anche voi Con la tastiera No se no Premete pausa Magari fate casino Stavo per cadere Da quella parte No no Non cadiamo Non cadiamo Forza E la 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 Un attimo E' morto E' morto Ma che cavolo No no Tenisiani Qua c'è C'è un problema Di fondo Ehi No Sono morto io Mi raccomando Iscrivetevi al canale E' molto importante Iscrivetevi Iscrivetevi Forza Forza Eh no Questa modalità E' super difficile Perché è tutta quella Con le ruote Io mi metto pure La mano davanti E la bocca Così voi sentite Tutto Garantito Assolutamente Si Allora Mamma mia Adesso però Fra tre Due Uno Si parte Perfetto Allora Dobbiamo stare attenti Perché qua Semplicemente Dobbiamo Allora Andiamo da questa parte Perché il trucco E' andare contro Quella cosa Capito Perché dovevano saltare E no 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 Allora però Questa cosa è ingiustizia Perché La gente mi salta addosso E quindi io muoio Eh però Questa dovrebbe essere Abbastanza Eh vabbè Che cazzo Però fritto Eh 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 la la Perfetto Cioè ce la stiamo facendo Crediamo in noi stessi Allora Porca miseria Però dai Forza Eh su Eh ma Svegliati fuori No Stupido Coso Che caspita è Poi i personaggini Di sto gioco Che caspita sono Scusate Sono delle specie di Di obbro No dai scherzo Sono così carini Certo Comunque Eh forza Scappiamo Eh la 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 Ma ce l'abbiamo fatta Ma siamo bravissimi Duniziani Forza tutti quanti insieme Ora Dobbiamo cercare Di esultare Insultate per me Forza Se no mi offendo Perché io Mi sto impegnando E qua io Non ho potere Riuscire No scherzo Porca miseria E la la Ehi 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 Ma avete visto Cioè In pieno Proprio scatapampere Avete Proprio scatapus Avete visto Porca spuzzola Eh Però ce la stiamo facendo qua Faischi Allora No no Allora Questa è la parte Che mi fa più arrabbiare Del mondo Perché io non so Che Che caspita Ho io alle dita E avrete sentito Un bip per sbaglio Però Semplicemente Certo no Certo Certo Va Non dico Allora Questo gioco Ha la particolarità Di dare fastidio Che di far arrabbiare Molto Perché Semplicemente Forza Ma fai Allora Personaggio di Di schifo Personaggio di Catrame Smarcio Vuoi saltare Brutto idiota Che non sei altro Oppure Devo chiamare La spampi Madonna Ma svegliati fuori No 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 Siamo stati squalificati Peccato Allora Se state vedendo Che sto ridendo È perché mi sto Di un innervosendo Ma che guarda Fra poco spacco il computer Guardate allora Porca di Ce l'abbiamo fatta Ma grazie Ma grazie Finalmente ce l'abbiamo fatta Dopo tre ore Almeno Devo giocare di più A questo gioco Perché se no Altrimenti Poi dopo Io Capito Cioè poi gli altri Diventano sempre più bravi Io sempre più scarso Quindi questa cosa non va bene Devo giocare di più Oddio cosa devo fare Devo muovermi fra i due Cosi per non cadere Ok Praticamente qua Da quel che ho capito Mi sa che ci sono dei buchi Capito Eh la 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 Tipo qua ci sono Eccoci Tipo qua Eh no Stai scherzando Stai scherzando Stai Allora Ai lati Ai lati Si deve stare Ok mi raccomando Stiamo ai lati Stiamo ai lati Perfetto Tutti tranquilli Cioè bisogna stare tranquilli Qua è Un casino più totale Perché porca miseria Non è Eh bisogna stare attenti Dobbiamo praticamente Muoverci tutti così Perché se no Poi dopo qua Si muore altamente Fidatevi è brutto morire No perché Non a tutti piace Ecco morire Però porca miseria Eh la 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 Ok ce la stiamo facendo Però è una cosa buona Secondo me questa qua Perché praticamente qua Eh Eh Ok Così bravi 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 Siamo bravi noi Bravi noi No 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 Eh stai scherzando Ok perfetto No ce la Ce la possiamo fare Tranquilli Dunisiani tranquilli Fidatevi di Dunis Eh Perché Dunis Sa No non è vero Non sa Però Eh qua c'è C'è un lato Bello blu Tutto quanto Porca miseria Avete capito no Cioè Eliminati il 12 di 17 Allora tranquilli Che fra poco finisce Questa tortura Molto grande Della quale io Ho una paura immensa Perché porca miserio Ma stai scherzando Eh no Ehi 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 Stavamo per cadere Stavamo per cadere Quindi sono stato zitto Per tre secondi Però Vabbè Questo è un altro conto Mi sa Ehi Ma stai No 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 Quel tizio era No 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 Ce l'avete visto Io stavo andando avanti E quel tizio non mi faceva andare avanti Vabbè comunque Questo gioco Finisce sempre E per Non farmi assolutamente arrabbiare Perché a me guardate Non mi fa assolutamente niente arrabbiare No no Quindi Grazie per aver guardato questo video Mandiamo quel paese Quei tizi Scherzo Se siete arrivati fino a questo punto del video Vi ringrazio tanto Ci vediamo al prossimo video Ciao Dunisiani No 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 Grazie.